Il bello dell'Absolutely Dance è che quando sei lì non hai paura di essere giudicato dagli altri, entri e devi solo essere te stesso. Quando penso all'Absolutely Dance mi viene subito in mente la parola casa, perché per me è come una seconda casa e una seconda famiglia. Della scuola mi piace un sacco la location, il metodo di insegnamento, affrontare le lezioni con i miei compagni, quindi stare insieme a loro, l'approccio che gli insegnanti hanno con gli alunni, organizzare attività al topo della scuola come per esempio Flash Mob o Saggi e mi piace soprattutto quello che imparo. L'Absolutely Dance è una scuola molto simpatica e molto istruttiva e per questo frequento la scuola perché so di trovare una compagnia molto simpatica e piena di allegria. L'Absolutely Dance è una scuola fantastica e molto divertente dove si esprimono le proprie emozioni ballando. L'Absolutely Dance è una scuola di danza perché mi piace ballare. Perché mi piace ballare. Io frequento l'Absolutely Dance perché per me è come se fosse una seconda casa. Una famiglia su cui contare sempre, dove si impara, dove si gioca, dove si scherza, ma quando bisogna essere seri, sei seri. Quando vado lì mi dimentico di tutto e stacco la spina. È una grande famiglia pazza, loro sono tanto importanti per me. È l'unica scuola di danza che mi fa uscire sempre con il sorriso dopo ogni lezione. Frequento l'Absolutely Dance perché è una grande famiglia in cui ognuno trova il suo posto e la sua dimensione. Non è una scuola di danza come le altre. È una grande famiglia. Quando tu hai dei problemi al di fuori, entri lì che si cancella tutto. L'Absolutely Dance è la pace dei sensi. A me piace andare alla scuola di Elisa per chi si impara giocando in allegria. Questa scuola è un po' come la mia seconda casa.